bene a tutti ragazzi di Salvatore Alex1 e benvenuto a Nintendo News oggi vi mostreremo l'archeovoluzione, l'archeo risveglio di Archeograudon e Archeo Chiogre vi mostrerò due volte, una volta normalmente come vedete così e poi la seconda volta vi mostrerò un po' più a rallentatore e così almeno ne possiamo parlare comunque vi sto mostrando ora, comunque è simile a quello della megavoluzione come vedete infatti solo che alla fine cambia un po' la forma e il colore, cioè un po' il colore per Groudon e tanto per il colore di Diogre perché comunque quello è blu e invece la megavoluzione è tutto rosso o rosa, simile a quello di Archeograudon perché non mostra l'omega, quindi alla fine, anche se è l'unica cosa che non capisco perché l'omega di Groudon è quella grande, invece l'altra è quella piccola, è minuscola, una maiuscola o una minuscola se la cosa non la guirò mai, mi piace molto perché alla fine è Archeo Luis Veio che comunque alla fine sembra un po' simile a quella della megavoluzione e poi arriva Chiogre Balena gigante Balena gigante Balena gigante Balena gigante Balena gigante comunque ragazzi, questo è tutto, ci hanno rivelato per ora mettetevi mi piace, iscrivetevi e questo è tutto, una nuova mia bella ragazzi Bitch